e questa fa nella classica vescica al naturale però una vescica naturale esatto esatto domanda costo al letto di questa nel tuo negozio qua siamo sui quasi due euro e trenta al letto ok questa invece e questa siamo un po più alti siamo sui due euro e settanta al letto ok ora amici preciamo ancora io ero entrato in questa macelleria con l'intento di fare solamente un servizio un video sulla mortadella il problema è che qua ogni centimetro quadrato questa macelleria mi fa svedire allora vieni facciamoceno una passeggiata intanto ragazzi tutti i mercoledì dal 5 giugno al 7 agosto in macelleria si mangiano le due per l'ibadette sono mercoledì sono mercoledì vieni scegli noi ti grilliamo in diretta quello che hai scelto adesso ti chiedo una cosa di abbracciare il dono della sintesi prima mi dicevi vai tranquillo i miei clienti entrano già sanno quello che gli do perché non comprano un prodotto ma la filosofia ma comprano un metodo un metodo poi l'hai scusato rizzeri il metodo rizzeri è una filiera dovuta al fatto della produzione dell'alimentazione per gli animali e gli animali come vengono allevati quindi il cento per cento del benessere animale che possono essere o bradi o semi bradi comunque in totale libertà perfetto bene facciamoci in giro la qui vabbè ci sono le carni qua sai che ci sono le carni non so se guarda sopra ragazzi sto in completo tilt vengono divise vengono divise in carni rosse maiale manzo una parte dei preparati pronto a cuocere per chi ha la fretta di non stare a farsi può perdere del tempo